Qualcosa non torna evidentemente nel meccanismo di raccolta differenziata a Cosenza. Il sistema che avrebbe dovuto favorire, oltre allo smaltimento dei rifiuti, una più ordinata raccolta degli RSU garantendo una città pulita, probabilmente si è inceppato. Nella città dei Bruzzi, i cumuli di rifiuti disseminati lungo le arterie urbane, occupando anche porzioni consistenti di marciapiede, lasciano intendere che manca qualche tassello nel processo di passaggio dal nuovo al vecchio sistema. Non è plausibile anche giustificare la questione con un mancato senso di civiltà dei cittadini, probabilmente disorientati da un sistema che per certi versi fa acqua. Soprattutto in quei punti dove di raccolta porta a porta neanche ombra, così come sono spariti i cassonetti vecchia maniera. Non resta altra strada al cittadino, forse anche un poco stretto, che quella di lasciare i sacchetti lì dove una volta campeggiava il tradizionale raccoglitore. Un gesto quasi spontaneo come punto di riferimento che il cittadino, lasciato in balia di sé stesso, sceglie naturalmente. Così come inevitabilmente non può che disorientare il cittadino, una informazione fiume di raccolta differenziata porta a porta, messa in atto a Cosenza, poi per un certo senso smentita dai cassonetti differenziati disseminati in più punti, a volte anche in numero inferiore rispetto alla densità del quartiere. Risultato? Qualcuno rinuncia alla differenziata usando gli appositi cassonetti secondo tradizione. Unica busta con rifiuti misti lasciati nel cassonetto differenziato. Si aggiunga che in alcuni punti cittadini non sono ancora puntualmente dotati del kit per l'attuazione del sistema di smistamento nuovo. A questo punto la domanda nasce spontanea. Vada bene che ci si trovi in fase iniziale, ma un sistema che non dà segni alcuni di miglioramento, col trascorrere delle settimane, ma anzi di peggioramento, che non restituisce una città pulita, ma anzi costellata da focolai di sacchetti anche in quantità consistenti, che disorienta il cittadino piuttosto che orientarlo, fa pensare o no ad un vero e proprio spreco di denaro pubblico?